Ciao a tutti e benvenuti in questa terza parte della serie Viaggio in automobile per le strade di Torino Ovviamente quando io filmo in automobile lo faccio sempre da passeggero e non mi permetto mai di farlo come autista Filmare mentre si guida può essere una cosa troppo pericolosa Tanti lo danno per scontato e fanno anche i video mentre guidano Ma io non ci penso proprio e vi consiglio se volete fare dei video di farlo da passeggeri Mi raccomando non fatelo mentre guidate perché se no rischiatevi la vita voi e rischiano anche altre persone, questo non sarebbe giusto Oltre che se vi beccano poi vi tolgono anche i punti della patente Basta un attimo per distrarsi e fare dei gravi incidenti Dato che sono un creator di video e ho fatto dei video in macchina E' meglio dirle queste cose perché sono molto molto importanti Inoltre si vede che io filmo sempre dal lato destro E se fosse anche che lo faccio dal lato sinistro Non lo farei mai come autista ma come passeggero nella parte posteriore dell'automobile Così se un giorno farò dei video dal lato sinistro Voi saprete già in anticipo che sarò semplicemente un passeggero E non l'autista Prima di cominciare a stare di nuovo zitto Come ho fatto negli scorsi video in automobile Adesso io vi saluto e vi lascio godere tutto il viaggio Quindi buona visione Grazie 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 Grazie